Buon pomeriggio da Cuccioli Levamenti, da me ovviamente e da questa piccolissima cocherina che oggi siamo venuti a trovare, vero? Sei tutta puzzettina, ma fa niente, ti tengo in braccio lo stesso, che sei simpatico. È coccolissima, è tenerissima ed è visibile nel suo bellissimo allevamento insieme ai suoi genitori, vero? Di qualcosa, quindi gli amici di Cuccioli Levano le diciamo baciotti, 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 o quanti baciotti che mi dà questa bimba qua. È troppo tenera veramente, è divertentissima, è tutto pomeriggio che giochiamo insieme, per aver fatto un succo di fotografia, adesso me la porto a casa io. Facciamo un aggechino e un cocherino? Eh? Buona giornata mia. Saluti a tutti da Cuccioli Levamenti e dalla cocherina super cocherosa.